Ci mancano gli studi, perché noi per esempio come Lolita abbiamo girato tutti gli esterni a Bari e anche alcuni interni, poi per quanto riguarda gli uffici, ovvero per noi la caserma per Lolita credo fosse la Questura, si va a girare a Roma, perché non abbiamo gli studi per ricreare la caserma oppure gli uffici della Polizia, manca questo, nel momento in cui gli imprenditori baresi capiranno, e lo so che si muovono con molta difficoltà, perché molti li conosco, capiranno che è un grande investimento per il futuro, per la crescita anche della nostra regione, perché potrebbe essere in futuro che le produzioni internazionali vengono a girare qui tutto, cioè che tutto significa non solo gli esterni, ma anche gli interni, con la possibilità di ambientarli negli studi, cosa che mi auguro accada presto. Bellissimo appello, Paolo, tra l'altro abbiamo qui l'assessore Pierucci, adesso siamo ovviamente in odor di elezioni e quindi non sappiamo chi sarà alla guida della città per i prossimi cinque anni, è un lavoro e un investimento da fare insieme anche con il sostegno ovviamente della regione Puglia, non si può far carico il comune da solo? Beh, io però penso che in Fiera del Levante, dove c'è già un grande fermento con il Cineporto, dove avvengono tantissime attività di produzioni cinematografiche, tra queste ci sono anche oltre 44 eventi legati proprio ai costumi, alle prove, si è cominciato nella Puglia Film House proprio con una parte del piano superiore della Fiera del Levante dedicato alla possibilità di iniziare a fare piccole produzioni. Naturalmente quello di cui parla Paolo è una necessità che proverebbe persino a trasformare Bari in una sorta di cinecittà del Sud e a proposito di questo noi abbiamo già dimostrato proprio attraverso il cinema di capovolgere anche il punto di vista della visione che si aveva prima del Sud, certe cose, certi film o certi spettacoli dal vivo, i grandi concerti. Pensa Robert Plant che dall'anno scorso è voluto tornare dicendo che Bari è bellissima e quest'anno abbiamo annunciato da poco i Simple Minds a giugno. Ormai prima si pensava che ci fosse solo Napoli al Sud, i grandi concerti, avvenissero soltanto Milano, Roma e Napoli nei grandi tour. Adesso c'è anche Bari tra queste e quindi anche al riscatto di un'altra visione da parte di molti imprenditori, di molte produzioni nazionali e internazionali che trovano in noi un grande territorio, non solo accogliente ma dal punto di vista imprenditoriale sicuramente ci sono anche imprenditori e imprenditrici illuminati che vanno sicuramente accompagnati da quest'altra strategia politica che in tutto, anche in altre forme espressive della cultura, debbano prevedere così come nel turismo il lavoro tra pubblico privato. Perché anche questo investimento di pubblico privato è quello nel quale bisogna investire maggiormente per tutti i settori, anche per le infrastrutture, anche per la lirica, le grandi produzioni della lirica. Noi abbiamo un grande turismo specifico solo su quello. Quindi è sicuramente un appello interessante, bisogna lavorarci perché come tutte le cose meritano progettazione, investimento e collaborazione e sinergia tra istituzioni.